BASTERÀ Quindi quando prendi la tua dama Preoccupati di meno di fare la sequenza Ma prima allineati al ritmo, alla melodia E poi va Un giorno ti allineerai anche al testo Perché se riconoscerai che cosa sta cantando Capirai se la devi stringere di più Ora devi stringere di meno Se ti devi tirare più su O ti devi stare più comodo Capirai tante cose Fa parte dell'evoluzione Comunque come diceva di Spencer Il livello di un gruppo Si riconosce dal modo in cui cantano Adesso avete cantato bene Sembravate quasi felici Mi sentivate più rilassati? Grazie a tutti Grazie a tutti